Un caro saluto da Mario Giuliaci. Il tempo è previsto per queste festività all'incirca fino al 2 di gennaio. Tre distinte fasi. Una prima fase tra il 24 e il 26 di dicembre, quando sull'Italia si affacerà un possente anticiclone nordafricano. Quindi, ovviamente, assenza di piogge, assenza di nevicate, cieli coperti al centro-nord, con nebbia qua e là, soprattutto in Valpadana, nelle zone interne del centro. In questa fase le temperature subiranno un rialzo di 6-7 gradi al centro-sud, tanto che le temperature massime sulle regioni centrali saranno intorno 15-17 gradi, invece 16-18 sulle regioni meridionali, 18-21 gradi sulle isole maggiore. Sul nord Italia, invece, temperature quasi invariate. Poi seguirà una seconda fase tra il 27 e il 30 di dicembre, quando invece l'africano si ritirerà sotto la spinta dei più freschi correnti atlantiche. Le temperature scenderanno di 4-5 gradi, soprattutto al centro-sud, e ci sarà anche una piovosa perturbazione al centro-nord tra il 29 e il 30 di dicembre. Ovviamente mi chiederete le nevicate, certo, ci saranno anche nevicate tra il 29 e il 30 sulle regioni alpine a quota intorno a 1.200 metri. Poi una terza fase tra il 31 dicembre e il 2 di gennaio, quando ritorna il noioso anticiclone nord-africano, quindi ancora bel tempo, ancora cieli nuvolosi, ma senza pioggia e senza neve, ancora nebbie. Termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliaci. Grazie.